Carissime sorelle e fratelli camperisti siamo qua belli che spaparanzati al salone del camper alla Fiera di Parma. La bella è un certo che si mettono gli occhiali ma è bella, bellissima, bellissima. Io invece qui ora ve lo faccio vedere, io invece sono bruttissimo, troppo brutto. Va bene, siamo qui belli che spaparanzati e là di fronte c'è la Fiera di Parma. Anzi, facciamo una cosa, andiamo a fare una capatina all'ingresso anche se è chiuso, venite con noi, dai. Qui c'è il bellissimo Giggetto, anche lui spaparanzato, andiamo a Giotta facciamo strada, dai, domani qui. Per chi vede questo video noi siamo proprio qui, guardate, di fronte alla biglietteria. Andiamo, 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 andiamo. Qua è sbarrato, non si può, saltiamo, 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 non saltiamo, saltiamo, non saltiamo, saltiamo, non saltiamo e siamo soli soletti. Mi piace vedere l'ingresso di sera, quando non c'è nessuno, questo è l'interno. E sabato sarà. Ah, sabato, sabato, non domani, domani è venerdì. No, domani è venerdì. Domani lo aspettiamo. Allora, qui c'è tutto, perché c'è la bellissima angioletta? E poi c'è ancora sguarnito, c'è solo Giotto lì spaparanzato. Allora, salutiamo. Ciao ragazzi. Una buonanotte. E poi domani vi faremo un reportage di tutti gli altri camper, camperisti, tutto quello che ci sarà. Il parcheggio, ci sarà il parcheggio pieno di tanti nostri amici, conoscenti, ci saranno nuove amicizie perché sicuramente è un'occasione per conoscersi e farci conoscere giustamente un po' da tutti. Grazie, a presto, buonanotte, riposate.